La curiosità, la relazione dei revisori dei conti, questa benedetta relazione è arrivata? In questo momento ancora no, quindi siamo ancora in attesa, abbiamo sollecitato anche telefonicamente i revisori, sembrerebbe che si siano incontrati anche via Skype in questo momento e che stanno verificando tutti i dati che hanno in loro possesso per poter decidere e quindi esprimere il parere su quel consuntivo, tra l'altro già approvato dalla Giunta Comunale. Che cosa potrebbe succedere se la relazione non arrivasse nei termini chiesti dal Prefetto? Il Consiglio Comunale, il Presidente, chiaramente rappresenterà i consiglieri tutti la situazione che si è venuta a creare e poi all'interno dei gruppi consigliari si deciderà cosa fare. Crede che per la settimana prossima si risolverà il problema? Io credo proprio di sì. Vi auguro che per lunedì questa relazione sia sulla scrivania della Segretaria Comunale in modo da poter dare al Presidente la possibilità di convocare il Consiglio Comunale. Grazie. Grazie. Grazie.